Allora, ah, noi siamo questi. Allora, Tech. Allora, Recon. Infantry. Airsoft Trooppen. Quattro, cinque. Puoi tank, no, non li portiamo. Più bel munizione, no. Anti-tank. Anti-tank, no, direi di no. Però posso mettere un TDF Schimiega. Artillery. Arti però sì, magari. O faccio venire lo Storch. BF-109 G2. Artillery Brait. Allora, io direi che possiamo andare a cercare di prendere quello come... Come tipo di... Non so se... No, di là sono già in tanti. Quindi a noi ci conviene andare di qua. Andiamo in questa zona. Andiamo tramite la strada. Tagliamo qua a sinistra e ci mettiamo qua. Ci mettiamo qui in questi boschetti. Vediamo un po' che cosa succede. Abbiamo utilizzato tutte le risorse iniziali. Abbiamo... Abbiamo un... Un'artiglieria. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Abbiamo sette unità di fanteria e una Recon. Ma che bel machine gewehr. Mamma mia, mi tocca fare il cucco. So che ci sono dei problemi a livello di... Di bilanciamento, per il momento. Di questo gioco. Però non so onestamente le ragioni. Ho letto qualche cosina. C'è un S-Spanzer, Lufthland. I tedeschi nel 44, la Blitzkrieg se la sognano nel... Nel cesso se la sognano. E beta, e beta ancora, sì, sì. Allora, voi, però, ci dobbiamo spostare qui. Alla fast-stand. Così vanno a seguire la... La strada. Siamo un po' lenti, ma chi se ne frega. Ecco, una cosa che hanno tolto rispetto agli altri... Sì, un po' di casini, sì, è normale, ok. Stanno già arrivando gli alleati qua, eh. Sì, 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 sì. Sì, 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 Per difendere un po' il territorio Postiamo il pezzo dell'artiglieria un po' più indietro Vediamo un attimo cosa possiamo richiamare Possiamo chiamare un Panzer 35 volendo Ma è una roba inutile praticamente Preferirei tenermi punti per qualcosa di più buono 160 Possiamo arrivare a un pack 75 Vai a massima velocità Così abbiamo bisogno di un 75 Questi qua adesso tanto avanzeranno presto tardi Allora Qui sono già in combattimento Quello che mi chiedo è Come faccio a vedere Allora io direi che fai Unload Qui Panzer 39 Lo richiameremo dopo Ma magari lì così Motevi anche evitare Però va bene Mettiamo il pack 75 lì Vediamo se riusciamo a Riusciamo a ingaggiarli Riuscite a sparargli No Non ho un Field of Fire decente Stiamo tenendo il punto Ma non stiamo facendo nient'altro Il che può essere un problema No Clear Sight Allora Chiamiamole un altro di anti-tank Va No Non va bene Allora Ah noi siamo questi Allora Tech Allora Recon Infantri Ersatztruppen Quattro Cinque Poi tank No non li portiamo Cube del munizione No Anti-tank F Allora Ah noi siamo questi Allora Tech Allora Recon Infantry Ersatztruppen Allora Dai su Che lo so Che lo puoi colpire Questo qua adesso si sta mettendo in una posizione di merda Torna indietro e non farti del male Ah l'abbiamo perso il nostro aereo Porca miseria Abbiamo perso il nostro HS Va bene Ce l'hanno tirato giù Allora Tank 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 Siamo in D con quello Quindi non ci interessa Hit 2% Come l'idea di Di aver scelto Una cosa sbagliata Ma va bene Non abbiamo line of sight in quel punto Ci abbiamo gli inglesi che stanno arrivando Infantry Allora Portiamo degli altri Falschimiega Adesso proviamo a fare un push qua centrale Ci portiamo in questa zona Prossima fase Andiamo in fase B Fra 40 secondi E Teniamo fuori un Panzer 3H Vediamo di fare qualcosa di decente Ok Spariamo con l'artiglieria Andiamo un attimo Sta completando l'operazione Per me l'importante E' riuscire a Li facciamo Riusciamo a A stressarli Ok Portiamo un Panzer 3 Che ci servirà come il pane In questo momento Enemy air contact Air cos'è che abbiamo Bf 109 G6 Proprio anti air Questo qua addirittura va in retro Allora E' il mio fronte centrale Che non sta avanzando Vuoi scendere con tutte le truppe Porca di quella miseria Qui è Copertura leggera Questa è copertura pesante Enemy air contact Portiamo un anti air Che è un Flak 3650 No Flak 38 Che è Flak 36 Lo portiamo qua Rompiamogli le scatole Cerchiamo di spostare avanti Non riusciamo a A colpirli 200 Abrechen 6 Schuss Ende Spaniamo ancora un po' Con l'artiglieria va Support Artilleria Flak 39 Ancora Non riusciamo a penetrarlo Che cazzo è quello Un M4A1 Perché non riusciamo a penetrarlo An KVK 38 Allora Questo qua adesso Finisce di sparare Intanto finisce le munizioni Per niente Non abbiamo abbastanza munizioni Dai Su Tiriamo lì giù Dalle spese Lanza Zustela Lanza Zustela Stiamo spostando avanti Nel mentre Stanno avendo la meglio loro Per il momento Allora Ah noi siamo questi Allora Tech Allora Recon Infantri Ersas Troopan Quattro Cinque Poi Poi No Non li portiamo Cube Munizione No Anti Tank F Allora Ah noi siamo questi Allora Tech Allora Recon Recon Infantri Ersas Troopan Siamo Shaken Riusciamo a penetrarli Ma non riusciamo Oh guarda Guarda che errore Che ha fatto Questo qui Immortario Da 60 mm Tun 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 Uuuuuh Ma questo qui Era un Un tank E' un tank Comando Cazzo Cosa ho fatto Oh mamma Via 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 Retreat Retreat C'è quello Ship 21 Che continua A dare problemi Cos'ha quelli Due razzi Da 210 O due bombe Da 210 Ship 21 Ha lasciato Il game Il game Se stanno andando Falling back Che cazzata Questo qua Via 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 Fall back Fall back No 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 Che miseria Questa è una sfiga Heat penetration Non riusciamo a farla Però possiamo fare del male Con il cannone Da 75 Da 57 mm Anni morta da 60 E' stato ucciso Perfetto Uuuuuh Uuuuuh Non ho Non ho Non ho anti-tank Degni di questo nome Uuuuh Marder Madonna Santa Cos'è questo Ma Sono pieni di P47 E P51 A quanto può sparare Lo sapremo A breve Retreat Fra 30 secondi Cazzo Via 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 Eh Sono venuti giù Con tutti i pezzi Da novanti Bastardi Il marder ha già Incominciato a tirare Uuuuuh Anti-air Starting phase C Black 39 Distrutta Ah abbiamo perso L'artiglieria Cazzarola Vedi l'importanza Di avere L'importanza Di avere Un'unità Da combattimento Antiaerea La differenza Fra averla E non averla Si mette anche Angolato automaticamente Fuel Explosion Perfetto Qua ci portiamo avanti Worried Via via di lì Jawohl Hauptmann Ok Andiamo avanti Andiamo un attimo Se riusciamo a chiamare Uh driver knocked out Però gli stiamo dando Dei gran problemi Questa è la cosa più importante Infantry Granadia Cinque granadia Recon Half-clarer Uh 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 E la madonna Falling back addirittura Portiamo anche un carro a comando Adesso questi stanno sfondando di qua Perché non ho difese Credono Ma Vediamo di riuscire ad entrare in questa casa, va Siamo al Marder sulla sinistra Noi siamo l'unico punto in cui ci sono dei problemi E ovviamente perché ci sono io Halfclarer li mandiamo avanti Lo Stub sta facendo il suo lavoro Ecco forse avere Questi, ecco Quello lì è il problema principale Abbiamo line of sight però stiamo riprendendo lentamente il settore Adesso questi sono bloccati, li stiamo uccidendo dal fianco Dai tiralo giù, tiralo giù Uuuuh il Marder che brutta fine che ha fatto Halfclarer li mandiamo avanti Non ho qualcuno di fanteria di HQ No, no nessun comando Stranissimo Allora, che bella munizione Ah lo vedi adesso eh Questo qua è venuto avanti solo ed esclusivamente con le camionette Eh adesso la paga Allora, che bella Oh, he's gonna pay That's for sure Anti-artillerie Artillerie Flak 39er Let's take one Let's take two batteries Ok, let's advance Ok, let's advance Ok, they are slowly refueling, resupplying the units Ok, they are slowly refueling, resupplying the units Siamo perdendo l'upper hand, semmo che abbiamo l'upper hand. Wow, 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 it's fluent aircraft Come on, come on Plus one, we have this problem here, and we've lost the battle, I suppose Minor victory Points to each two mili cinque team Losses, kills He did the main stuff Concelling They were a surprise Because we know that this terrible problem